e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e come avete capito dal titolo un video sugli acquisti che ho fatto su passione unghie quindi un video haul e spacchettamento del mese di aprile allora vedete che mi è arrivato questo pacco enorme adesso questo è l'anteprima diciamo dopo comunque lo faccio vedere meglio è l'anteprima ed è già qua l'ho aperto e però non ho spacchettato niente non ho spacchettato niente non faccio come al solito che io prima faccio spacchettamento insomma da me perché 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 compri gel color ovviamente li metto sulle tipe che così vi posso far vedere sia sul barattolino il colore che sia sulle tipe siccome ho preso tanti 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 ma tanti tanti gel color quindi faccio un video a parte poi io vi faccio vedere tutt'oggi le cose che ho acquistato su passione unghie e poi prossimamente farò un altro video dove vi faccio vedere non dove applico il colore già applicato vi faccio vedere se già un'altra volta nel barattolino e sia sulla tip come si presenta il colore e quindi siccome non faccio mai cioè non faccio faccio all'inizio spacchettamento insieme a voi stavolta le cosine le volevo aprire insieme a voi dato che tanto che non lo faccio per il fatto per il problema di gel che mi piace farvi vedere sia barattolino che tipo però stavolta cambio faccio una cosa diversa ora il pacco mi è arrivato proprio adesso è enorme sono felicissima ed enorme sono felicissima perché non mi è mai arrivato mai un pacco così grande perché stavolta veramente omega all perché ho preso tante tante cosine soprattutto mi sono soffermato sui colori ho preso perché altro tutti color glitter solo tre quattro adesso non mi ricordo hanno presi normali perché mi serve i colori glitter per esempio una cliente vuole un rosa non ho un glitter adatto per quel rosalino un po mette un verde cioè c'è sta male un po verde rosa c'è un rosa normale un verde glitterato per dirvi perché ho dei gel glitterati molto molto vecchi che me l'aveva presi tempo tempo fa il mio ragazzo su ebay però ormai stanno fatti tutti i groom li si stanno rovinando quindi non mi pare il caso quelli ritengo lo stesso tante volte vuoi fare qualche nell'arte che c'è qualche glitterato li uso almeno per le clienti vuoi usare dei gel glitterati che le passioni unghie ne ho soltanto due mi pare due tre non lo so quanti ne ho ma non ce n'ho tantissimi e non voluto prendere altri allora questa terprima adesso vi faccio vedere il pacco dentro e è grande vi stavo dicendo perché ho preso anche l'aspiratore il promed alleluia perché come sapete gli aspiratori quelli classici normali però la polvere mi va veramente dappertutto una cliente allergico ogni volta che faccio le unghie tossisce ogni volta che le limo io pure ogni volta tutta sozza dei polveri l'altra cliente pure feste se tocca una gamba qualcosa tutta piena del polvere mi sono veramente stufata prima di acquistare questo promed di passione unghie ovviamente ho visto le recensioni ho visto i commenti sui gruppi sul sito eccetera 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 mi sono formata bene e tutti dicono sono soddisfatte che dicono che ottimo non c'è la polvere che te va dappertutto perché comunque un'aspiratore chiuso e l'ho preso c'è due dei colori c'era sbianco e rosa e ovviamente l'ho preso rosa che i miei colori preferiti sapete che è nero e rosa va bene quindi per questo il pacco lo vedete questo scatolone così grande adesso mi sono messa un attimo qua sopra il letto l'ho messo così grande perché c'è l'aspiratore in più c'è due pacchettini dove c'è altri cosini tipo i paz e dopo quell'altro preso anche l'acqua glossa insomma adesso vi faccio vedere tutto intanto faccio vedere un anteprima io intanto il pacco qui l'ho tagliato almeno senza che dopo prendiamo tempo a tagliarlo insieme diciamo per aprirlo al pacco si presenta così col polistirolo le bollicine qua questi sono i paz quindi se presenta ecco i paz e qui e qua ci sono i due pacchetti allora questo qui è uno più piccolino questo è quello più grande eccolo è quello più grande vedete e poi qua c'è sta l'aspiratore che sta dentro la scatola che adesso devo levare tutto ecco vedete effettate questa qui è la scatola dell'aspiratore allora io adesso levo tutto da qui dentro mi sistemo tutte le cosine e così vi faccio vedere tutte le cose che ho acquistato eccomi qua ragazzi allora io già ho tirato fuori l'aspiratore eccolo qui guardate quanto è bello questo bellissimo rosa qui c'è scritto po passioni unghie nilfan dust cleaner molto bello mi piace molto allora l'aspiratore si presenta così in se per sé questo va beh il poggio a mani della cliente qua dietro pensavo che era più grosso c'è pure che non mi entrava che come vedete una scrivania così qua lasciate perdere mi sei macchiato l'asciugamanino e pare polvere ma non è che l'ho sgrullato prima apposta che con un altro aspiratore ma fece un sacco di polvere ok allora l'aspiratore si presenta così intanto vi dico il prezzo che l'ho pagato 114 e aspettate che io mi sono scritta anche sul quaderno tutti i prezzi che ho fatto cioè tutti i prezzi che ho pagato delle cose allora questo aspiratore si chiama promed aspiratore rosa l'ho pagato 114 99 centesimi quindi 114 115 euro ecco fanno prima poi si presenta con questa griglietta con questo poggia braccio poggia mani che si leva e come vedete è morbido di gomma qua c'è sta praticamente questo qui bianco che vedete lo leggo perché il filtro ecco esatto il filtro pensavo che era più grande invece piccolino questo che cattura la polvere poi lo faccio vedere qui dietro a questo qui che pure questo si leva do capì come si leva per prelevare la polvere credo per raccoglierla polvere questo ok il poggia mani e lo rimettiamo qua al suo posto questa è la griglietta che si leva e ad ecco qui molto e molto spazioso devo dire bello poi a qui questa qui questa si muove ma dovrebbe essere normale che si muove per chi ha il promete casomai sotto il video se mi commenta mi sa dire se deve fare questo effetto o meno se si deve muovere o meno ma credo di sì allora poi qui aspettate che adesso qui per metterlo questo ok poi qui c'è il tasto dell'accensione ma questo va così perché mi sa smuove o va per cuscita ho sbagliato io questo va per cuscita no non ho fatto bene scusate c'è pure la forma pure io intelligenza niente questo c'è il tasto dell'accensione questo è il filo ovviamente allora aspettate che lo metto meglio ecco come rumore l'ho sentito proprio zero proprio zero c'è fa rumore ma ne manco più di tanto quello che c'evo prima facciamo molto più rumore bellissimo sto rosa che sa dice al ciclamino rosa ciclamino anche questo sì adesso ve lo accendo per farvi sentire il rumore insomma tutto sto rumore tutto è non me pare che lo fa mettendo la mano qui un po di aria si sente pare che più di tanto non non aspira invece come ripeto visto anche i video adesso lo spengo comunque rumore questo ok questo è un po duro perché c'è sta gomma rimane un po duro non so se da levarla ma no mi sa che questa non si leva rimane ok ho visto anche le recensioni comunque dopo che l'hanno usato hanno detto che è una bomba come aspiratore e che e che aspira molto molto bene c'è la polverina ho visto che rimane tutta qui praticamente lì dentro che rimane lì dentro e basta però qua la polvere non ce l'hai per niente io adesso su questo non vi faccio la recensione insomma ecco però siccome questa settimana dovrei fare a parte lunghe anche me a mia madre vi faccio vedere direttamente non la levo la polvere da lì che così vi faccio vedere come l'ha aspirata come rimane lì dentro e vi dico anche cosa ne penso come ci sono trovate eccetera eccetera quindi appena lo userò l'aspiratore vi farò un video a parte su questo aspiratore o cos'altro dirvi un'altra cosa ah poi c'è stava dentro ovviamente il libretto delle istruzioni dopo me lo devo leggere devo vedere anche come funziona lì il filtro dietro lì il coso qui vi dice tutti i passaggi vedete in italiano le istruzioni in italiano finalmente ogni volta le troviamo sempre lingua straniera tutto italiano poi vi danno un'altra griglietta e un altro filtro eccolo qua un altro filtro quindi vi da come come si dice come oddio di scorta insomma diciamo queste due cosine il filtro e la griglia e niente questo qui quindi l'aspiratore sono felicissima sono contentissima non vedevo l'ora di averlo perché veramente ragazzi con quell'altro l'aspiratore non facevo più polvere dappertutto le cliente una volta che accendevo qui c'è la lampada vedete qua se vedeva tutta la polvere che andava su un casino della miseria e speriamo con questo che insomma mi vada bene insomma ecco allora detto questo io adesso mi sistemo un attimo con il cavalletto e vi faccio vedere le cose che ho preso oltre l'aspiratore su passioni unghie due pacchetti allora ragazzi eccomi qua e non fate caso le mie unghie ma sono pittose guardate già l'avevo detto anche in un video precedente non mi ricordo quale adesso sarà uno dei nell'arte ma me le devo rifare ed è vediamo qui pure mi si è sbeccata in casino vediamo se in questa settimana riesco a farmele insomma vediamo un attimo allora cominciamo subito l'aspiratore ve l'ho fatto vedere adesso ovviamente stava qui l'ho levato e ho preparato tutto allora cominciamo con i pads ho preso sempre questi qui da 500 eccoli qua in cellulosa mi piacciono veramente tanto sono ottimi 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 appena strofini l'unghia lo puoi doperare più di una volta perché non te se sfaldano quindi sono veramente ottimi e ve li consiglio allora perché io già l'avevo preso da 500 pezzi ma manca tanto come stanno finendo eccoli qua infatti comunque ok intanto vi dico il prezzo allora i 500 pads questi qui da 500 pezzi li ho pagati 3,99 euro che era in offerta se no a prezzo pieno venivano 5,99 ok questi sono i pads perfetto adesso apriamo il primo pacchettino eccolo qua qua come al solito vi dice vi ringraziamo per l'acquisto eccetera 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 e spacchettiamo insieme a voi lasciate, non ci fate caso meglio sbrego tutte le buste che non c'ho pazienza allora qua abbiamo il primo pacchettino ovviamente i colori vi li faccio vedere alla fine che sono quelli dove ce ne sono di più allora ecco qua qui leviamo questo prima che ci bugamo ci fanno male faccio levarlo forse un attimo ok perfetto ok allora ecco qua il pacchettino adesso levo tutte le cosine qui cosa c'era ok i colori in effetti ah ok perfetto è vuoto sì è vuoto ok allora cominciamo qui c'ho i colori ma questi vi faccio vedere per oltre insieme all'altro pacchettino allora in primo pacchettino abbiamo ovviamente l'omaggino che ci hanno invitato inviato mamma mia un'altra volta ste bubble non ne posso più uffa sempre queste pensavo che avevano smesso che all'inizio mettevano le bubble poi l'ultimo acquisto che ho fatto che è stata marzo ha dato le paillette ed è un'altra volta ste bubble che so piena che io poi non le uso più di tanto però vabbè io c'ho delle clienti semplici e quindi non è che mi chiedono robe un po' strane magari non mi fanno mai divertire però vabbè comunque mi divertirò su mia madre facendo le prove su di me allora però comunque i omaggini sono sempre graditi da Poo quindi grazie mille Passione Unghie solo che aspettavo altre però queste sono molto carine sono pareture è un turchese blu turchese molto molto belle eccole qua va su si sul blu pare si in realtà del blu viola non lo so non lo so dire comunque è molto gradito questo è l'omaggino ok perfetto poi ho preso un altro water del coke questo pure tanto che stavo dietro questo è il 3D14 allora questo water del call l'ho pagato 1,99 euro a prezzo pieno alcune cose l'ho presa in offerta altre a prezzo pieno molto molto carini questi non li sto a aprire è in 3D bellissimi i fiori belli 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 ok allora adesso passiamo all'altro pacco quello più grande ovviamente qui ci sono i colori quindi giusto lo fa vedere e ve li faccio vedere dopo abbiamo questo pacco enorme che ne manco c'entra oddio stavo spaccando tutto nella videocamera qui ovviamente c'è sempre il fogliettino con il modulo di reso raccomandazioni d'uso conservazione preparo a creatura elettrica se sarebbe così eccetera eccetera questo qui è nuovo perché la prima volta che lo vedo se no vedo sempre questo come conservare il gel cosa fa il ricevimento dell'ordine ovviamente il modulo di reso se c'è qualche prodotto che non va però questo qui è la prima volta che lo vedo sinceramente questo ok ok stacchiamo anche questo e apriamo di qua credo no di qua quindi apriamo il nostro pacchettino pacchettone che non l'ho preso mai così gigante allora no niente mi aiuto con le mie forbici ok perfetto allora aspettate che aspettate eh ecco il pacchetto qui dentro non c'è più niente guardate c'è il collo che si vedono già ah qui non c'è il collo si ecco lo metto di qua che sono più abituata allora apriamo no busta apriti che io le rompo proprio faccio così eccolo qua allora leviamo stacacchio l'inguetta qui ok perfetto allora adesso tiro fuori tutte le cose ovviamente i colori ok questo ovviamente altri colori perché ve l'ho detto non ho presi tanti questi dovrebbero essere altri colorini ve l'ho detto che questa volta se riferi oddio bellissime pennelle va bene altri colori quindi ho quattro scatole di questi ok il pacchetto è vuoto via quindi possiamo cominciare allora cominciamo con i pennelli allora ho preso questi qui adesso ve li apro un attimo ve ne apro uno perché comunque sono uguali quindi ve ne apro due ne ho presi due ve ne apro uno questi qui bellissimi nuovi questi sono per per l'acrigel per l'acrilico per l'acrigel no per l'acrilico va bene però bellissimi neri e ho preso il numero uno no il due perché il due è molto più largo allora ne ho presi due che io questi li utilizzerò per applicare i gel color che questi qui volendo li potete utilizzare non è solo per l'acrigel ma li potete utilizzare anche per applicare i gel color li apriamo infatti si vede che è il pennello d'acrilico comunque l'acrigel eccolo qua se sente che c'è la colla eccolo qua questo è uno però mi pare anche molto adatto questo è il più piccolino solo c'è l'acrigel del pennello sempre questi qui neri credo che si chiama acrigel 2 che però è più largo e più grande a me mi seria questi più piccolini e ne ho presi due a parte che neri mamma mia il colore mio preferito bellissimi questi pennelli adesso lo chiudo aspettate che c'è non ci ho chiappato aspetta questa la metto qui così non la perdo poi un'altra cosa vi volevo dire poi vi farò un video a parte uno intanto lo preparo dove levo la colla quell'altro invece vi farò vedere come levare la colla sui pennelli quindi farò un video a parte poi lo vedrete come levare la colla sui pennelli allora questo adesso lo mettiamo dentro così poi dopo metto la cosa questo qua dopo rimetto questo qui che adesso un attimo ce la faccio allora comunque mettetevi comodi perché sarà un video lungo che tante cose vi devo fare vedere insomma questi qui quindi ne ho presi due Acrygel uno vedete sono uguali allora i pennelli uno di pennello costa 9,99 io ne ho presi due quindi le ho pagate 19,98 e abbiamo i due pennelli perfetto poi un'altra cosa che ho preso non vedevo l'ora alleluia acqua gloss non ci credo ce l'ho anche io è da tanto da tanto insomma quando è crescito che lo volevo provare e poi sono piena di luci dietro a ultra gloss ce ne ho due ho un easy gloss un altro ultra gloss in brattolino così perché quei due che ho vabbè insomma a me luci mi piace un bel po' e questo ho finalmente acqua gloss io ancora allora dicono che bisogna stenderlo come il rock gloss il rock gloss non l'ho mai usato quindi ne manco so cosa significa stenderlo come il rock gloss ho sentito che il rock gloss comunque lo stendete molto abbondante e l'acqua gloss ne ha detto che bisogna stenderlo né tanto abbondante né tanto poco quindi come lo devo stendere proprio a smalto oppure tipo faccio anche questo tipo bombatura fatemelo sapere se qualcuna di voi ce l'ha e me lo faccio sapere qui bisogna levare con la forbicetta la forbicetta ok vediamo un attimo la consistenza di acqua gloss poi mamma mia se denso e poi questo dovrebbe essere con la dispersione credo no no mi pare senza dispersione credo fatemi sapere anche questo che non mi ricordo perché cioè pare che non lo so perché qualcuno dice madonna compri la roba ma sai no è che non mi ricordo non so se c'è scritto il barattolino però comunque molto denso scusatemi e comunque vi stavo dicendo molto denso va bene comunque vediamo un po' come si comporterà userò su di me e poi vedremo e fa vedere che c'è scritto no dice solo evitare il contatto con la pelle eccetera eccetera allora acqua gloss l'ho pagato a prezzo pieno questo è da 15 ml 11 euro e 99 ok queste cosine water deco l'acqua gloss i paz i due pannelli è ok adesso passiamo ai colori ragazzi veramente c'è guardate quantino ho presi c'è c'ho 4 scatolone così in più questi due va bene comunque adesso li vediamo tutti e vi ripeto dopo a parte a parte poi vi farò vedere sia il gel color sia anche il barattolino che nelle tip vi farò un video a parte adesso però vi faccio vedere il barattolino allora intanto apriamo il primo allora aspettate che io adesso un attimo ve li apro vabbè dai come va è uguale che volevo far vedere quelli flash prima è uguale allora non sono emozionata con questi colori che è una vita che li vedevo sulle persone sulle clienti sulle persone su facebook entre il gruppo del gruppo de passione pure su passione unghia eccetera eccetera quindi mi ha fatto venire la voglia proprio poi anche perché mi serviva intanto ho uno a uno vi dico i prezzi anche allora fucsia flash è il classic g54 intanto vi dico il prezzo vi dico proprio una conetano allora aspettate che lo trovo allora ho trovato fucsia flash l'ho pagato a prezzo pieno ed è costato 5 euro e 49 vediamo un po' fucsia flash no inante così come voi altri ne ha fotogli aiuto mados wow quanto è bello ragazze allora in videocamera lo vedete un po' più spento ma è molto più acceso mamma mia ragazze cos'è sto fucsia flash bellissimo bello bello tanto i flash mi piacciono molto io ne ho solo uno mi pare che avevo preso tempo fa se stendono che è una meraviglia proprio una bellezza infinita e poi sono coprentissimi ok fucsia flash poi abbiamo cassiopea perché ho preso sia questi che quelli flash vi ho fatto tutti in ordine tutto flash tutto è però vabbè uguale dai allora questa è cassiopea invece classic g scusatemi che cacchio è sta tipo singhiozzo mi viene su scusatemi ragazzi allora cassiopea classic g 46 questo l'ho pagato in saldo in offerta costava scusatemi 5 euro e 49 io invece l'ho pagato 2 euro e 19 e donna sono emozionata a vedere questi così ne la faccio vabbè oh wow non ci credo mamma mia è venuti tutti scusatemi gel color wow ma che figata perché l'ho vista anche nei video eccetera eccetera e lo metti a fuoco oh mamma mia non immaginavo così guarda che paglietuzze rettangolari bellissime c'è anche le pagliette rotonde questa è la cassiopea sulle tonalità del verde come vedete del verde giallo e c'è anche qualche riflessino blu celestino bellissimo spettacolare proprio bello allora adesso apriamo questi e vabbè in queste scatoline così apriamo la prima scatola ecco che partene allora scusatemi ma anche una cosa volevo dire a me stavolta mi è venuto o forse perché ho fatto l'ordine più grande ma che senso c'ha non penso perché praticamente mi è venuto con l'SDA cioè a me passini unghie da quando faccio l'ordine che ordino da loro è venuto sempre la GLS dove io mi trovo che è una bomba ho fatto amicizia pure col corriere c'è il numero di telefono suo che se tante volte non ci sono lo posso chiamare ok eccetera eccetera già sa chi sono quando lo chiamo poi sono puntualissimi non mi hanno mai rovinato niente di niente di niente infatti alcuni di voi invece ho sentito che su GLS ho fatto caso che hanno detto che non ci si trovano bene invece una bomba proprio e se via guarda che roba i brattoli tutti i cusci tutti sbrodolati li mazzano queste vabbè comunque quindi quindi non so ditemi voi se ha cambiato anche voi che viene con la SDA oppure ancora avete la GSL a me piaceva più la GLS GLS o GSL non mi ricordo come si dice insomma quel corriere lì a me piace veramente tanto sono bravissime mi ci trovo veramente bene ho dei corrieri d'oro proprio mi piacciono veramente tanto loro sono bravissimi non capisco perché adesso con la SDA con il fatto che ho fatto l'ordine più grande però che c'entra pare una stupidaggine che vuol dire che ho fatto l'ordine più grande boh non lo so fatemi sapere sotto nei commenti un po' che è questa su passione unghie però ovviamente se gli arriva GSL GLS ma si chiama o SDA fatemelo sapere però ci sono rimasta è venuta l'SDA vabbè infatti i barattoli tutti i bombardati pare che ce n'è fatto la guerra vabbè comunque allora poi ho preso Ferrari questo è un'è brillantinante un rosso classic C02 Ferrari l'ho pagato adesso ve lo dico subito non dì che non l'ho scritto no l'ho scritto a prezzo pieno 5,49 euro è un bel rosso l'ho visto anche sui gruppi eccetera eccetera e mi è piaciuto veramente tanto bellissimo proprio ma proprio rosso rosso aspettate ma bellissimo ragazzi è proprio Ferrari insomma rosso Ferrari allora voi in videocamera lo dovreste vedere leggermente un po' più scuro ma di poco se no è un po' più acceso ma bellissimo questo colore ve l'ho detto classic C02 questo bello 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 bellissimo bellissimo poi mi sono scordata state zitte mi sono scordata indovinate che colore che non l'ho preso l'altra volta perché non c'era passione come l'handicappata non l'ho preso come una deficiente del cacchio è una vita che lo voglio da quando è cuscito poi non l'ho preso lo prende no perché era finito che la gente tanto appena arriva l'offerta è normale che acquistino su passione per chi acquista su passione unghie è normale prende robe più belle no mi pare ovvio io cogliona l'altra volta è stata colpa mia perché non c'era era finito io cogliona stavolta non l'ho preso come una deficiente del cacchio porca miseria scusatemi lo sfogo ma il primo del carrello 2 mette passione no io la farò prendo la prossima volta vedremo va bene poi abbiamo sexy plum che è il fast f15 sexy plum l'ho pagato invece era a prezzo pieno 5 euro 99 io invece l'ho pagato in offerta a 3 euro 99 questo bellissimo viola cioè quando l'ho visto dicono adesso è mio cioè stupendo proprio che questo metallizzato che ha questi micro brillantini all'interno wow ragazzi dal vivo è una cosa azzurda assurda voi lo vedete non so perché in videocamera però ve lo fa leggermente più scuro ma è un po' più chiaro ma è leggermente proprio ma bellissimo con questi micro brillantini all'interno mamma mia se è bello questo colore stupendo ok ti massa gratis i gelporetti anche bisogna lasciarli riposare anche un pochino poi abbiamo titanium che è il fast f72 che questo dovrebbe essere un grigio metallizzato allora titanium l'ho pagato a prezzo pieno costava 5,99 io in offerta l'ho pagato 2,99 vediamo un po' titanium wow bello io mi ero si pentita ad averlo preso perché dopo non mi piaceva più di tanto sulla foto invece guardate che spettacolo ma no mi piace invece bellissimo sempre con i micro brillantini in interno questo è uguale sì mi pare che lo vedete lo vedete uguale bello questo dopo non vedo l'ora di stenderli li metto tutti in ordine così poi ve li farò vedere in un prossimo video stesi poi abbiamo victoria che è un fast f64 allora victoria 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 dove sei a prezzo pieno l'ho pagato 5,99 che era quello viola mi pare sì un violetto aspetta se ce la faccio ok mamma mia se bello ragazzi bellissimo porca miseria non rende tanto ma c'è questi micro brillantini bellissimi non mi so dire che colore è pare un rosso porpora bo guardate che bello è stupendo proprio se sentite un po' di casino mio figlio è là che sta con l'amichetto sua ma ecco mi sono sboccata no madosca sei bello vedo l'ora di farveli vedere su tip ok passiamo avanti guardate vado un po' più veloce se no non so quanto durerà questo video poi abbiamo finisce che è classic g40 allora finisce l'ho pagata in offerta costava 5,49 prezzo pieno e in offerta l'ho pagata 2,19 euro ecco la famosa finisce guardate come è venuto questi brattoli già proprio wow bellissimo questo invece ha proprio tutte paillette vabbè questi dopo si stimeranno da soli guardate che roba quanto luccica bellissimo questi c'ha vari colori tra non ve lo so dire argento rosa blu viola verde non lo so vari colori rosa grigino non lo so ma tutti tipo arlecchino pare mamma mia maccegato stupendo poi abbiamo jackpot fast f73 allora jackpot un attimo solo che lo trovo l'ho pagato a prezzo pieno a 5,99 euro questo mi pare che era un oro non mi ricordo si wow bellissimo questo per natale farà furore oro proprio oro e lo vedete uguale in telecamera bello ok andiamo avanti aiuto l'ho chiuso ok perfetto poi ho glitter chrome and gold chic a 115 allora questo costava pensate ragazzi 6,99 euro e io in offerta l'ho pagato a 2,79 euro quindi se lo volete andate subito nel sito ad acquistarlo quindi ne approfittate bellissimo cacchio però non è tanto pieno questo bello glitter chrome and gold va sul verde oro e si c'è un po' d'argento come lo vedete in videocamera no lo vedete un po' più spento ma un po' più acceso bellissimo mamma mia belli belli poi abbiamo giove classic g28 allora io giove l'ho pagato a prezzo pieno 5,49 euro ok mamma mia bellissimo questo è sul viola sul lilla vedete tutti i riflessi sul villa sul lilla viola bellissimo allora poi l'ultimo della prima scatolina abbiamo urano che il classic g24 urano l'ho pagato a prezzo pieno 5,49 euro ho preso tutti questi qua lo so che questi sono vabbè intanto ve lo faccio vedere questo va sul blu mi pare sul blu viola pure quel sargento no pare se che va un po' più sul blu vabbè blu viola insomma eccetera eccetera bellissimo e cosa volevo dire ah che questi qui questi gel qua questi qua colorati questi qui dei pianeti questi sono complicati a stendere lo so ne devo rendere conto allora passiamo alla seconda scatolina eccoli qua gli altri su ogni scatola ce ne sono 4,8,11 fa vedere 4 5 6 7 8 non è vero qui ce ne è 9 3 cosa c'è 9 beh pensavo che erano i stessi beh allora poi abbiamo idra classic g42 idra l'ho pagato allora costava 5,49 a 2,19 euro in offerta e questi sono della collezione vecchia mamma mia oh mi sta a fare male gli occhi veramente perché luccica tantissimo questo anche come french su pendi questi queste pure le peiettuzze e anche rettangolini questi sul blu e a tutti questi riflessi a col baleno bellissimo ok perfetto poi abbiamo il famosissimo ora rosa flash classic g49 e l'ho pagato a prezzo pieno a 5,49 che ormai questo guardate si parate e guardate come è venuto porca miseria a prezzo pieno 5,49 euro ormai ce l'avevano tutte tranne che io ma che miseria ok in effetti è tanto bello è su un rosa attico pare che va si molto molto bello ok va bene sporchiamoci tanto ormai poi abbiamo lavanda glitter che è il classic g12 allora lavanda glitter l'ho pagata a prezzo pieno a 5,49 euro bellissimo eccolo qua sempre più scuri li vedete beh più o meno non è che tanto scuri più o meno vedete quasi uguale leggermente più chiaro bellissimo ok poi abbiamo Pegaso classic g36 allora Pegaso a prezzo pieno a 5,49 euro ah bellissimo questo pure tra lille e argentato bianco pare insomma bellissimo ok non so dove metterli adesso c'è più spazio della scrivania vabbè allora poi abbiamo Marte classic g27 Marte l'ho pagato dove sta scusatemi adesso ve lo trovo che non l'ho scritto no l'ho scritto a prezzo pieno 5,49 euro vai vediamo Marte ma questo è stupendo è tram blu e giallo argentato pare madonna me la massa è grattis sto corriere sti la miseria bellissimo comunque tutti belli piacciono tutti a me parti i colori tutti mi piacciono poi abbiamo Antares classic g47 allora Antares invece l'ho pagato costava 5,49 euro io in offerta invece l'ho pagato 2,19 euro bellissimo questi su lilla madonna che riflessi che c'ha lo vedete più scuro ma è molto più appariscente sono più appariscenti questi in videocamera li fa proprio scuretti invece sono molto più appariscenti bellissimo questo tra lilla viola rosa poi abbiamo Sirio che è il classic g39 allora Sirio costava 5,99 l'ho pagato 5,49 scusatemi l'ho pagato in offerta 2,19 questo dovrebbe essere su un verde mi pare sì in effetti un verde scurino bellissimo sempre con le pagliette micro brillantini due di colori eccetera eccetera come con gli altri insomma come gli altri pianeti poi abbiamo verde flash un altro flash classic g53 allora io verde flash l'ho pagato 5,49 quindi a prezzo pieno eccolo qua madosca bellissimo bello 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 tanto anche questo poi abbiamo oro flash classic g61 allora oro flash l'ho pagato a prezzo pieno 5,49 euro eccolo qua bellissimo per questo oro bello poi la seconda scatola abbiamo finita adesso passiamo alla penultima che è la terza scatola si metto un po' più indietro perché è pare faccio così che faccio prima aspettate faccio così così altri tre poi qua ce ne sono nove allora raccomando mettetevi comodo scusate l'ora passiamo alla terza scatola fucsia glitter classica g13 allora fucsia glitter a prezzo pieno 5,49 euro bellissimo adesso così i clienti non si possono aumentare ho tanti glitter da abbinare ai colori che mettono questo pur li vedete più scuro ma è molto più acceso fucsia glitter ve l'ho detto si a prezzo pieno 5,49 euro poi abbiamo turchese flash classica g52 questo è bellissimo ragazzi scusate ho fatto proprio così bello bello mamma mia come lo vedete è uguale ecco questo qui di turchese flash eh sì 5,49 euro prezzo pieno poi mira classica g38 io mi sono scurata da pian quelli di tipo antare spiego su colori un altro che era il più famoso diciamo non mi ricordo come si chiama dai vabbè classica g38 quindi sono scurata passione con l'altro vabbè idiota come so allora aspetta mira l'ho pagato 5,49 euro prezzo pieno però in offerta l'ho pagato 2,19 euro bellissimo pure questo sull'illa praticamente questi li ho presi tutti e questi perché mi piacciono veramente tanto non me ne frega se è difficile la stenderli cioè piano piano ce se la fa ovviamente nero flash classica g58 allora nero flash l'ho pagato 5,49 prezzo pieno bellissimo pensavo che era un po' più nero pare che va un po' più sull'argentato però mi piace lo stesso ok devo andare più veloce questo video durerà d'ore andromeda classic g35 andromeda dove sei l'ho pagata a prezzo pieno 5,49 euro non si sente che sono felice vero mamma mia quant'è bella non mi ricordavo che era lui questo è pure uno dei miei preferiti nero con questi riflessi viola rosa blu stupendo 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 aiuto poi abbiamo lira classic g45 allora lira l'ho pagata in offerta 2,19 euro se no prima costava 5,49 questo pure è uno che mi piace moltissimo anche questo è uno tra i miei preferiti che è il argentato e c'ha tutti queste faietuzze arcobaleno bellissima anche questo poi abbiamo elisir classic g70 allora elisir 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 dove sei prezzo pieno 5,49 non mi ricordo se questo era normale o brillantinato metallizzato come mi ricordo ah questo bellissimo proprio di notte pare adesso lo vedete tanto scuro ma leggermente un po' più chiaro non è come nel barattolino è un viola costitissimi micro brillantini pare un cielo stellato pare l'universo questo è veramente stupendo questo lo adoro proprio infinitivamente poi abbiamo nettuno ma do i nomi dei passioni unghie dei gel color quando li mettono c'è sti nomi e mi fanno impazzire classic g25 anche gli altri nomi di altri colori allora questo cos'è oddio nettuno nettuno l'ho pagato a prezzo pieno 5,49 euro oh mamma mia donna guardate mi è avuto tutto cosato vabbè pazienza questo pure sul blu un blu scuretto è turchese pare i gerestini voi lo vedete molto più scuro ma è più chiaro è un po' più chiaro c'è stupendo nettuno aiuto poi abbiamo l'ultimo colore credo si della terza scatolina vega classic g48 allora vega aspettate 5,49 euro quindi a prezzo pieno madonna malani distrutti oh porca vac bello anche questo solo argentato e celestino pare oro bello ok passiamo all'ultima scatolina e così vi lascio in pace che oh oddio l'ultima questi e dopo ho finito gli ultimi colori e poi ho finito ok perfetto non so più dove metterli che sto finendo che non ho presi veramente tantissimi allora mettiamoli qua così divisiamo da questi perché se no allora c'è lo flash classic g50 l'ho pagato a prezzo pieno a 5,49 euro bellissimo ragazzi bellissimo stupendo poi comunque ve li farò vedere meglio in due video a parte ripeto con già le tippe stese poi abbiamo eh porca vaca la meccane cigno cigno l'ho visto è una roba stupenda che è il classic g41 cigno 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 costava 5,49 l'ho pagato 2,19 euro cigno è stupendo ragazzi è qualcosa di bello guardate blu argentato ma mi piace un bel pomme questo stava sciola poi abbiamo purple rain fast f78 purple rain purple rain purple rain allora costava 5,99 l'ho pagato in offerta 3,99 adesso non mi ricordo se purple rain e sexy plum o plum come si dice sono i colori nuovi d'aprile lo sai che non mi ricordo ragazzi ditemelo un po' è anche elisir o no mi sbaglio io boh vabbè comunque perché prima all'interview ho detto non ho preso niente d'aprile poi poi se qualche colore d'aprile l'ho preso non lo so ma mi pare di nuovo però questi qui mi sa anche che è d'aprile sto purple rain sexy plum amore elisir boh scrivetemi sotto nei commenti comunque vabbè fast f78 purple rain ve l'ho detto quanto l'ho pagato si è 3,99 invece che 5,49 questi sono i colori che vanno madonna se bello e sexy plum purple rain sono bellissimi è un po' più acceso dal video che vedete voi leggermente sono a fine più o meno è uguale da quello che vedete voi poi abbiamo azzurro flash classiche g51 azzurro flash a prezzo pieno 5,49 flash la maggior parte a prezzo pieno eccolo qua stupendario ma anche questo poi abbiamo saturno classiche g26 saturno prezzo pieno 5,49 wow questo è un altro di miei preferiti non me lo ricordavo bellissimo è sul bronzo con le paillette ma va sul viola però è blu come colore è molto più acceso ragazzi molto molto più acceso poi abbiamo o c'è uno flash classiche g59 o c'è uno flash l'ho pagato dove stai 5,49 immaginavo penso pieno eccolo qua bellissimo infatti questo è un po' più scuro degli altri leggermente in docamera sempre più scuri li vedrete ma sono molto più accesi più forti non di tanto però un po' dei più sì poi abbiamo ah beh il pure white che l'ho ricomprato fast f01 vabbè vi dico anche il prezzo pure white se l'ho scritto può aspettate no il pure white non l'ho scritto non mi ricordo quindi quando l'ho pagato perché mi stava finendo il pure white lo faccio vedere comunque in bianco comunque per chi vuole un bianco bianco così tipo gesso questo è adatto sia come monocolore che come per fare le nell'arte è una bomba infatti prendo sempre lui e poi son black quindi ho ripreso pure white perché mi stava finendo mi stava finendo poi abbiamo lì la flash classica g155 a prezzo più è una 5,49 euro ah bello anche questo è più viola bello poi passiamo all'ultimo colore che è malove che è il fast f35 questo è un colore semplice normale negri terato credo allora malove malove l'ho pagato prezzo pieno 5,99 euro questo è bellissimo questo è bellissimo perché assomiglia molto a charm solo che charm è più chiarino questo è più scuro e a me sti colori mi fanno impazzire pare tipo prugna anche questo malva come charm secondo me sempre sui violetti sui violaci però questo è leggermente più scuro delle cose delle charm bello questo ve l'ho detto quanto l'ho pagato si 5,99 euro oddio a prezzo pieno adesso ho finito qua guardate 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 il gel color che ho preso niente praticamente ragazzi il mio acquisto finisce qua io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile per i vostri acquisti su passi lunghi come può essere un gel colorato come può essere un water decol un lucido quello che vi pare allora vi lo ripeto per quanto riguarda gli aspiratori appena lo adopererò il promed sono felicissima appena lo adopererò non leverò la polvere sotto per farvelo vedere tutto e vi farò una specie di recensione diciamo così proprio durerà do tre minuti eh perché mi piaceva farvelo e farvi vedere come ci sono trovata per quanto riguarda i colori adesso che mi darà la forza di stenderli tutti ok e così vi farò anche un video a parte dei colori quindi vi li riapro vi faccio vedere sia aperti che su tip ovviamente così li vedete al meglio niente ripeto spero che il video vi sia piaciuto soprattutto ecco che vi sia stato utile se è stato così se vi è piaciuto anche mettete un pollicione in su sotto al video se volete qualche video particolare per quanto riguarda le unghie o qualcosa fate uno sapere sotto nei commenti se siete curiosi su un qualcosa fate uno sapere io vi farò un video ovviamente un video che dipende dalla vostra richiesta da quello che mi dite se lo so fare ve lo faccio bene se no no però fatemi sapere se volete che io vi faccia qualche video sulle unghie sui gel su un pennello quello che vi pare vedete voi per quanto riguarda le unghie vedo se riesco a farlo e se lo potrò fare ma credo di sì dipende poi che richiesta mi fate voi in più fatemi sapere se avete anche voi l'aspiratore Promed come vi siete trovate sotto nei commenti scrivetemelo e sono curiosa di sapere anche qual è stato il vostro colore preferito tra questi scrivetemelo sotto nei commenti oddio che altro dirvi niente posto così scusatemi per questo video se è andato alle lunghe non lo so ma credo che è andato un po' lunghino ma comunque voglio fare vedere tutte queste cose quindi aspettatevi il prossimo video sia sull'aspiratore non so quello arriverà prima comunque e sia sui pennelli stesi su tip e scusate i colori stesi su tip così ve li faccio vedere meglio quindi niente vi saluto vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo per questo prossimo video ciao